Lì allora, arrivate a questa semifinale in teoria non con i favori del pronostico, però anche Scandici viene da un gran momento di forma. Sì, lo sappiamo, giochiamo contro una squadra fortissima, forse è la più forte al mondo in questo momento, ma siamo contenti di confrontarci con loro perché arriviamo da un momento positivo, dove penso siamo cresciute tanto, abbiamo ancora molti margini di miglioramento, però è giusto confrontarci e vedere a che punto siamo. La possibilità di arrivare a una finale, che sarebbe la prima per voi, potrebbe anche essere un'ulteriore svolta di questa stagione? Sicuramente batterle, penso che sarebbe una grandissima soddisfazione, è una finale secca, quindi penso che tutto può succedere, bisogna crederci in primis, provare a metterle in difficoltà e poi vedere anche loro in un momento di difficoltà come possono reagire.